Parliamo di router. Faccio una doverosa premessa. L'obiettivo di questi videocorsi è andare incontro a tutte quelle persone che per passione o per necessità si trovano a partire da zero nel confrontarsi con determinate tecnologie. Fino a una decina di anni fa a fare l'elettricista, a fare l'antennista, permetteva di non avere mai a che fare neanche da lontano con un router, con una rete dati. Oggi non è praticamente più possibile perché ormai il cliente pretende che venga messo in rete tutto. Manca il forno, il forno già la Samsung lo fa, il condizionatore, il wifi, quello wifi, quello wifi, ormai un minimo di conoscenza delle reti dati, proprio basilare, dobbiamo averla tutti. Per cui se sei un espertone di router, di switch, di reti LAN, non stare a guardare questo video. Non stare a guardarlo perché dirò delle cose che potrebbero anche a tuo sindacalissimo giudizio sembrare sbagliate. Ma io qua voglio dare a un utente analfabeta, in questo campo, una conoscenza di base per capire di cosa stiamo parlando. Fatta questa doverosa promessa e quindi tagliati fuori tutti quelli che guarderanno questo video solo per trovare qualcosa da criticare, cominciamo. Che cos'è un router? Noi siamo abituati a pensare, quando parliamo di router, al router di casa. Tipicamente il carrettone bianco che ci porta Telecom Italia. In realtà il router casalingo, pur essendo un oggetto tecnologicamente mediocre, è la somma di più oggetti. Un router casalingo è un router, ma è anche un modem, ma è anche un access point. Tutto in un unico scatolotto. Non è assolutamente detto che un router sia anche modem, o che un router sia anche access point. Questo è un router, ma non è un modem. Ad esempio, che cosa sto dicendo? Il modem è la parte del router che permette al nostro apparato di interfacciarsi con la linea telefonica. Per dirla brutalmente, è il pezzettino dell'apparato dove infiliamo il plug RJ11 dalla spina del telefono. Quindi, mi rivolgo ovviamente, teniamo un attimino da parte tutto il mondo della connettività, fibra. Dove intendo quella fibra, quella che arriva in casa, non quella di Telecom che comunque usate la presa telefonica. Lì vale il discorso che sto facendo adesso. Ma lasciamo perdere il discorso fibra, con la fibra che entra in casa, che vale per alcune zone d'Italia, per altre, per esempio, no. E parliamo invece di, ancora, connessione dove c'è il cavo telefonico. Noi normalmente mettiamo il cavo telefonico, colleghiamo il router, mettiamo il nostro bel filtrino, colleghiamo il telefono e il router. Oppure, in talunni e altri casi, colleghiamo il router alla spina del telefono e il telefono al router. Quella parte lì, in realtà, noi diciamo che è parte del router, ma è la parte modem. La parte, cioè che si interfaccia alla linea telefonica. Prende il segnale del doppino e lo trasforma in segnale ADSL o in linea, per capirci. Non è assolutamente detto che un router abbia il modem a bordo. Questo è un Microtik. Microtik è una delle più grandi aziende di produttrici di apparati per networking del mondo. Nessun suo router ha il modem a bordo. Semplice. Perché poi loro, cioè, nascono perché lavorare insieme alle loro antenne, perché comunque... E non so. Alla domanda perché non fate modem, la risposta è perché non ci sarebbe mercato. Perché in Italia noi abbiamo ancora delle reti di un certo tipo, il resto del mondo prefede le reti di un altro tipo, dove il vecchio modem che si interfaccia ancora con il cavetto telefonico è un oggetto sorpassato. Per cui... Non è detto che un router sia anche modem. Perché è anche un access point? Perché il nostro router di telecom, il nostro router di telecom, ci dà anche un wifi. Ok? E quella è la parte access point, cioè un oggetto collegato via filo alla rete, che genera una rete invece radio, che ci permette di navigare col nostro smartphone, il nostro tablet, quello che vogliamo. Ma cosa serve il router? Inteso proprio come router, lasciamo perdere, quindi, il modem l'aviamo detto, l'access point l'aviamo detto. Cosa serve il router? Quali sono le funzioni principali di un router? Il router serve per gestire la rete, quindi mette in comunicazione tra di loro i vari oggetti che abbiamo collegati ad esso. e soprattutto serve per mettere in comunicazione il mondo esterno col mondo interno. Per cui noi dal nostro pc interroghiamo Google, il router collega noi con Google e ci permette di ricevere la risposta al nostro pc. o in sede di interno, il nostro router, cosa ci fa? Noi magari vogliamo vedere sulla nostra televisione un film che abbiamo nel nostro pc e tramite alcuni programmi e alcuni protocolli di comunicazione lo riusciamo a fare, ma è sempre il router che mette in comunicazione tv e pc. Oltre a questo, il router è anche l'apparato che ci permette di fare il NAT e a noi, installatori di sistemi di sicurezza, il NAT ci interessa parecchio. NAT vuol dire Network Address Translation, abbiamo visto come farlo nel video corso numero 1 ed è appunto la traslazione di un indirizzo o di più indirizzi della rete interna verso l'indirizzo IP pubblico. Questo lavoro lo fa il router. Il router è in grado di gestire mille altre cose, di gestire il firewall per la nostra sicurezza, di gestire il dns per l'aggiornamento dell'IP pubblico dinamico, anche questo l'abbiamo visto. Avete mai visto che su molti router, anche da poco, c'è la pennetta USB, c'è la porta USB per metterci una penna? Permette la condivisione dei file che metteremo su quella pennetta verso tutta la rete interna e alcuni più evoluti anche verso la rete esterna. I più moderni, i Fritzbox, permettono anche di gestire il centralino per la telefonia VoIP, di mandare fax. Insomma, i router sono oggetti che al loro interno possono avere mille funzioni, ma quello essenziale è la gestione della rete. Come faccio a configurare il router? Intanto bisogna entrarci nel router. Se avevi guardato il primo video corso, hai visto quali sono gli indirizzi classici di interfaccia del router. Ora, dopo è scontato alcune cose, ma preferisco sembrare pedante e dirle tutte. Quando dobbiamo configurare un router, dobbiamo essere collegati al router stesso con il nostro PC portatile. Quindi, consiglio 1, portatevi sempre il vostro PC, giocate in casa. Consiglio 2, collegatevi sempre via cavo. Perché è più stabile, perché magari il Wi-Fi si disconnette, perché non mille cose. Collegatevi via cavo. Lasciate il DHCP del vostro computer attivo. Lasciate che quindi il router assegni un indirizzo al vostro PC e da lì poi lavorate. Deve esserci internet per configurare un router? Assolutamente no. Abbiamo detto che la parte router non dipende dall'internet, poi dal modem. Per cui, se voi lavorate sul router e il router in quel momento non ha connessione, perché non è ancora venuto l'omino di telecom, perché c'è un guai... Voi potete lavorare pacificamente lo stesso. Il router vi dirà che non c'è connettività, ma le configurazioni del router le potete fare tanto quanto. Quindi, quando sento dire, ma quella roba IP, quello VIP ci vuole internet? No. VIP è il protocollo di comunicazione. Internet, quindi la presenza di un ISP che fornisca connettività, è un'altra cosa. Quali sono gli indirizzi più classici dei router? I router, anche questo l'ho scritto nel primo videocorso, hanno di solito indirizzo 192.168.10.1 192.168.1.1 192.168.1.254 10.1.1.1.1 E vi dicendo, se fate una googlatina, indirizzi dei router più diffusi, ne trovate altri. Normalmente, voi ci state lavorando tramite Google Chrome, tramite browser, Internet Explorer, Firefox, quello che volete. Quindi, normalmente, quando mettete questo primo indirizzo, vi trovate di fronte poi una schermata che vi chiede un utente, una password. Se nessuno le ha cambiate, e purtroppo devo dire che, beh, se è nuovo ovviamente è a default, e se è nuovo le password di default sono normalmente scritte in quel libricino che nessuno legge mai, che si chiamano istruzioni. Spesso potrebbero essere su CD, potrebbero richiedervi un plus aggiuntivo di mettere il CD, però normalmente sono scritte lì. Oppure anche quello, user e password di default, router di telecom. Google, il dio Google vi risponde, basta cercare. Però, normalmente, le password e gli user più diffusi nei vari router della varie market sono admin, per quanto concerne l'user. La password può essere sempre admin, può essere 1, 2, 3, 4, può essere vuota, mettete admin, lasciate vuoto. Può essere il fornitore di telefonia che avete, per esempio, nella casa mia, prima che prendessi io il router di fastweb, la password era fastweb. Ho scritto per esteso, fastweb. Potrebbe essere la parola password, admin password, proprio scrivete nel campo password, la parola password. Con un po' di buona volontà su Google troverete sicuramente la risposta. Se, per caso, invece, state mettendo le mani su un router, che è stato già configurato, e il cliente non conosce la password, attenzione! Tutti i router hanno il tastino dei reset, ok? Voi, di solito normalmente si fa così, più o meno, si spegne la corrente, si preme il tastino, si riavvia, fa un po' di lampeggi e poi è resettato. Attenzione prima di resettare un router! Se serviva solo per guardarsi i pornazzi e per scaricarsi la posta, va bene, lo resettate, funziona tutto. Ma magari c'erano già dentro regole per mettere in linea il cronotermostato, l'antifurto, le telecampe... E voi poi non sapete ripristinare niente, per cui, meglio dire, oh, no, io non ti posso resettare un router qua, bisogna trovare chi, oppure, ci andate con uno più esperto, se chi ha fatto l'installazione non c'è più, però comunque attenzione a resettare un router. Altre strade però non ce ne sono, se dovete mettere male a un router e quel router è bloccato da una password che nessuno si ricorda più, il reset è l'unica via. Però, prima di farlo, cerchiamo di capire che cosa stiamo cancellando, va bene? Premesso questo, abbiamo esaminato, quindi, che cosa serve, come funziona. Un altro piccolo suggerimento è quello di imparare a regolare il servizio di DHCP. Il servizio di DHCP, anche questo l'ho spiegato nel videocorso 1, ma lo ripetiamo, serve al router per erogare in maniera automatica degli indirizzi IP agli apparati che vengono connessi al router stesso. Io sono l'iPhone, mi connetto al router e il router in automatico, senza che io debba far niente, mi assegna l'indirizzo 192168.1.250. Questo è un servizio che va lasciato ovviamente abilitato, soprattutto quello che può essere una casa o un piccolo ufficio, ma se abbiamo diversi apparati che invece sono magari vincolati da regole o da NAT, vari, potremmo avere necessità invece di lasciarli fissi. Bene, in questi casi, in questi casi, occorre regolare il servizio di DHCP. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dovremmo essere in grado di dare al DHCP un range. Che decidiamo noi? Qual è questo range? Quello che ci serve. Per esempio, normalmente abbiamo detto che tutti i router casalinghi hanno, normalmente erogano un pool di 252 indirizzi, dal numero 2 al numero 253. Che ne so? Ci riserviamo 20 indirizzi, dal 192168.1.2 al 192168.1.20 e quelli li escludiamo dal range del DHCP e li andremo ad assegnare, che ne so, alla telecamera, all'antifurto, al cronotermostrato, a tutti i vari santi che vogliamo lasciare con un indirizzo IP fisso. E gli diciamo, dal 21 in poi, puoi assegnarli come vuoi tu. Normalmente questa sezione, in tutti i router, la trovate appunto col nome di DHCP e li potete giostrare in maniera abbastanza semplice. La cosa, cosa bisogna poter fare ancora? Lo saper fare? Cambiare la password del Wi-Fi e il nome della Wi-Fi, il cosiddetto SSID. Nei router di telecom, non so gli ultimi film perché non ci ho messo mano, però nei router di telecom un SSD non si poteva cambiare, o meglio, si poteva cambiare ma facendo un rigiro particolare. In tutti gli altri router che ho trovato nella mia vita si può tranquillamente compilare, c'è un campo dove potete scrivere famiglia, Pluto, quello che volete. La password del Wi-Fi è una cosa che va cambiata. Quelle a default che sono scritte sotto i router, che ne so, K, V, S, V8, avete presente quando arriva il router che sotto c'è l'etichettina con le SSD di default e la password di default? Vanno cambiate, ma sono lunghissime, sicurissime, è una fava, esistono delle app, andate a cercare, che permettono anche alla persona meno tecnologica del mondo di, sapendo l'SSID, e quello si vede, di calcolare la password perché sono legate da un algoritmo, è venuto fuori, e questo vale per i router di telecom e per i router di password. Quindi va cambiata, è una stupidaggine, normalmente andate in configurazione Wi-Fi e c'è la password. Normalmente la password di default è con standard di sicurezza WPA, W Palermo Ancona, lasciatela se potete così, vi obbligherà una password un po' lunga, ma piuttosto mettete una stessa parola tre volte in fila, ecco, se non avete fantasia. Comunque vi obbligherà una password piuttosto lunga, c'è la possibilità su quasi ancora tutti i router di fare un downgrade di sicurezza con la vecchia password, la vecchia tipologia di cifratura che è la WEP, W Empoli Palermo, dove il codice che vi verrà richiesto sarà un po' più breve. Ovviamente è un abbassamento della sicurezza, magari a casa nostra non ne frega niente, però comunque la password mettetela, non lasciate router senza password e se vi capita da un cliente di avere un router default, la password del router cambiatela. Anche perché poi ogni volta è anche una rottura di coglione andare a leggersela sotto perché non ve la ricorderete mai quella di caratteri alfanumerici, no? Invece mettete una password memorizzabile e quindi renderete sicuramente la vita del cliente più semplice e anche la vostra in caso di future manutenzioni. L'ultimo breve escursus ve lo do invece per quello che concerne gli switch. Che cos'è uno switch? Dirò una cosa che farà inorridire gli analisti di rete e tutti gli esperti. Lo switch sta al router come una ciabatta elettrica sta a una spina. Ok? Se il router ha soltanto queste porte a disposizione e voi dovete attaccarci dieci cose, invece di cosa fate? Da una delle uscite andate a una di queste porte indifferente, fateci caso non c'è un'universo di uscita, sono tutte uguali, andate a una di queste porte e queste diventano tutte come porte aggiuntive del router. Lo switch quindi è una ciabatta, non è più nemmeno. Consiglio senza addentrarmi nel perché, perché come dicevo questo è un videocorso base, ormai al giorno d'oggi è meglio approdare a switch che riportino la dicitura gigabit, oppure altrimenti detta dieci cento mille, cioè che permettano un transit dati fino a mille megabit per secondo. Perché ormai vediamo tutta roba in HD, attraverso uno switch potrebbe trovarsi a passare molto più traffico di quello che immaginiamo. Nel dubbio, visto ormai l'irrisore differenza di prezzo, cerchiamo di approdare sempre ad apparati gigabit, anche senza capire perché, ma cerchiamo sempre di prendere il router e switch gigabit per la maggior parte delle nostre applicazioni. Sicuramente non sbagliamo. Direi che può bastare così. Grazie per avermi seguito, se avete domande, suggerimenti o anche garbate critiche, vi prego di lasciarle sotto nei commenti. Ciao!